Terza giornata del campionato di eccellenza al girone B, l'Albino Gandino giocava in casa qui contro il Luciano Manara ed è arrivata una bella vittoria per 3-0 appunto contro la formazione della provincia di Elecco. È stata una partita piuttosto contrastata nel corso del primo tempo, la formazione ospite si era difesa molto bene ma poi con uno dei suoi tre attaccanti Carobbio è riuscito alla formazione di casa a sbloccare il risultato praticamente quando è raggiunto il 32esimo dunque Carobbio ha realizzato il primo gol e poi ci ha riprovato e praticamente 5 minuti dopo al 37esimo ha realizzato il gol del 2-0 Poi nella ripresa la formazione ospite ha cercato di risalire un po' la china, cercare di portarsi davanti in più ha aperto un po' di spazi e è arrivato il terzo gol di Confalonieri dunque che ha chiuso la gara. In definitiva l'Albino Gandino è stata quasi sempre padrone del gioco e ha conquistato un'ottima vittoria. Al termine della partita avviciniamo Roberto Radici, allora la prima vittoria in questo campionato dopo due pareggi ma una bella vittoria 3-0 contro il Luciano Manara. Sì, sono molto soddisfatto soprattutto per la prova che hanno dato i ragazzi e questa è la cosa che mi rincuora di più, che mi soddisfa di più poi naturalmente la conseguenza di queste prestazioni poi sono anche i risultati. Con la partita diciamo era stato un po' difficile fino al 32esimo nel senso che Luciano Manara si era chiuso bene nella sua metà campo e era difficile trovare gli spazi. Sì, in questa categoria penso che di facile ci sia poco. Sapevamo benissimo della partita che ci aspettava perché comunque loro venivano da zero punti e chiaramente non sono certo venuti per perdere un'altra volta. E quindi oltretutto poi si sono dimostrati anche ben organizzati e chiaramente questo dà valore ancora maggiormente alla nostra vittoria.